Un 2 giugno all'insegna del jazz, con un bilancio finale di 225.000 spettatori. Il Consiglio regionale con il Comune di Torino ha offerto in occasione della Festa della Repubblica uno spettacolo unico in cui la musica e le esibizioni sono state protagoniste. Fino a mezzanotte Piazza San Carlo è stata animata da una maratona musicale e sul palco si sono alternati i migliori artisti del jazz internazionale italiano, con particolare spazio per i nuovi talenti.